La bassa? Sicuro? Sì, sì. Un po' per Stefania. Vai in modo. Oggi è la mia. Per Stefania? Un'è, un'è. Per Stefania? La stiamo sentita. Ed ecco direttamente da Gaccamo le prelibatezze di Raimondo Canzone che ci sta servendo e siamo qui pronti per il primo assaggio. Qui in diretta l'anteprima di uno dei cibi che verranno serviti durante la Sagra. Questa è dietetica, tutta carne bianca. Sì, ecco. Leggala per star sonora. Magari mangiano solo. Guarda. Sì, non è il vostro. No, è il vostro. No, è il vostro.